C'è un padova e si vengono Io ti faccio un rancho della Madonna e tu stai lì così No problem! Ragazzuoli! Buondi! Benvenuti a questa diciottesima tappa del Giro E 2024 Qui comincia già a fare scuola come utilizzare un e-bike Il nostro team invece secondo me oggi è bello carico Anche oggi team nordico Ma li conoscete tra un attimo E oggi tappa praticamente piattume 50 metri di svivello, praticamente 3 cavalcavia Chi sia se andiamo? Siamo in ritardo come sempre 50 metri di svivello Con arrivo a Padova Padova è vento Però tappa abbastanza lunga perché Sfioriamo gli 80 km Che non sono banali secondo me Perché comunque con le bike saremo praticamente sempre oltre i 25 km orari Quindi assistenza che purtroppo non ci sarà E quindi bisognerà spingere con le proprie gambette ragazzi Infatti la cosa un po' strana del Giro E è che alla fine con le nostre bici Farlo sempre con le nostre bici Le tappe più dure sono quelle in piano e non quelle con la salita Sfiori Bravo Sasha Bravo Yamaha E io ti faccio il banco della Madonna e tu stai lì così Ma dove arrivano oggi? Oggi sono nordici Tutti nordici Tanto oggi il motore non si accende Ma infatti oggi mi sa che sarà dura eh Oggi devi mettere la Wabash Molto la prova Il capitano Yamaha Creature digitale da Red.tv Con Anders Aune E poi Lynn Salzberg Ciao Lynn, buongiorno Grazie Grazie Abbiamo ultramarie delle influencer Atresploder Comedian Television presente Insomma Sara Susanna Henry Grazie 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 Abbiamo Kurt Robert Augustona Grazie Grazie Dall'Inter Militare Svedese La Task Force Veditore di Yamaha Motto Scandinavia Daniel Kanslom Grazie 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 Buona Primi dieci chilometri fatti Il ritmo è abbastanza Abbastanza allegro Hai più scioglido di Clara Tu hai il tuo tipo di engine Sì I miei due lecci Sì Sono super gasati loro Come noi? Buon lavoro Buon lavoro Buon lavoro Bury No 259 Gente Nessun che Le bambine no no, aspettiamo, aspettiamo, dove andiamo? aspettiamo, aspettiamo, dove andiamo? ok, 40 km questa prova è veramente a piedi ci fermiamo, corriamo e andiamo più veloci 381 4.6 aspettiamo, aspettiamo 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 è bene andiamo, andiamo forza ragazzi forza ragazzi come si dice ragazzi 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 Alla junta! C'è perché nessuno che dà una birrettina? No! 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 No, non è il più veloce! Ok, quanto veloce? Tu devi andare veloce o veloce? Ok! Questo è il trucco! Se volete arrivare in fronte, devi andare veloce! Ok! Non è così intuitivo, ma è come questo! Speed up, speed up, speed up, speed up! Ok! Let's go guys! Perfect! No! 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 Ok! Let's go! Full speed! Scatenate l'inferno! Non vedevano l'ora di andare a manetta questi qua! Dieci all'arrivo! Buona ragazzi! Abbiamo vinto la maglia azzurra oggi! Siamo stati bravi! Molto bravi! Quindi tanta roba! Non è normale, quando facciamo le cose vanno bene! Qui c'è la gente che vuole vincere le cose! Dai, precisi! Se batto il sogno e faccio un video, entro su Instagram! Ma ciao! Siete affortunati che ho messo il mio frutto! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Piano, piano, piano! Piano, piano, piano! Zit! Jai! Siete avanti! Allora! Cosa è una grande spara? Ci sei presumo che c'è loro sconsistami inretti? Non ci sono un tempo che non veda inlazione! Grazie ciao che volata ho un piccolo crampetto a colpaggio davvero? che cosa hai fatto ragazzi? buonatona andrea 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 e la funzione della ricostissima tratta Maglia Azzurra Italia punto ilười per cimilia macchina con Andrea Zilliani grazie ad Alessandro e a barbià buona Buon lavoro ragazzi, abbiamo vinto il colore Tutta la gente, a vedere i pro Noi ragazzi ci avviamo verso Udine, c'è un botto di traffico già visto Sta arrivando il disastro, là, che oggi infatti è andata non di lusso, di più Noi ci vediamo domani, intanto qui altro disastro L'ultima tappa di salita, 50 km 1.700 con l'arrivo a Sappada E poi da Peralta ci vediamo sabato mattina sul grappa a fare il disastro, se non diluvia Ciao ragazzi Ciao